Salve, due velocissime indicazioni, due parole su come operare per inserire i voti in preparazione dello scrutinio trimestrale. Fatto il login su Spaggiari, dobbiamo utilizzare questa icona, questa area relativa allo scrutinio online che ci consente, selezionando fra le classi di nostra pertinenza, quella che ci interessa in quel momento per inserire le nostre proposte di voto. Cliccando su questa icona, il sistema restituisce per ogni singolo studente una media dei voti scritti o grafici, una media degli orali, una media di un eventuale voto pratico e la media generale. Assieme restituisce anche le assenze. In questa colonna, dove vedete i verdi e rossi, invece ciascuno di noi inserisce la propria proposta di voto. Nella colonna delle note, invece, inseriremo il livello di competenze che ciascuno studente ha raggiunto. Infine, per coloro che abbiano dei debiti, delle insufficienze, utilizzeremo la colonna qui del recupero. Cliccando, infatti, c'è la possibilità di inserire per ciascuno studente le modalità con cui deve recuperare, il tipo di studio e il tipo di prova a cui verrà sottoposto a termine del periodo di recupero. Fatto questo, il nostro lavoro si conclude e tenendo presente che comunque tutti i dati che abbiamo inserito sono sempre modificabili perché vengono registrati in rete sui server di spaggiari, ma noi possiamo modificarli fino al momento dello scrutinio. Grazie a tutti, io torno ad ascoltare il terzo movimento della nona di Beethoven, che vi consiglio vivamente perché mi sembra rispetto al quinto, all'ultimo, ma molto più noto, come un sussurro confrontato con nulla. Grazie a tutti.